Ti spiri piano per non far rumore, ti addormenti di sere e ti risvegli col sole. Mattinata di festa per l'Istituto Superiore Benelli di Pesaro che al Parco Miralfiore saluta l'anno scolastico in via di conclusione riproponendo a distanza di anni il Benelli che spettacolo. Una declinazione canore musicale dell'Istituto Tecnico con gli studenti a mettersi in gioco in una nuova vocazione di creatività. È un evento musicale che ovviamente ha un significato pedagogico molto importante in quanto certo noi non abbiamo competenze del liceo musicale anche se comunque il maestro Mariotti, il professor Mariotti che appunto dirige il coro ha cercato appunto di far acquisire ai ragazzi delle competenze importanti però non sono certo nel nostro indirizzo di studio quindi voglio dire non vogliamo dare uno spettacolo di competenze di indirizzo di studio no, loro fanno parte di un progetto, un progetto Benelli che spettacolo e questa è la parte del coro praticamente è un progetto inclusivo dove ognuno con le sue specificità, le sue competenze, i suoi bisogni ognuno ha potuto dare praticamente il proprio talento, ognuno ha potuto dare un contributo poi c'è anche il palco, il palco l'abbiamo costruito noi, cioè l'hanno costruito i ragazzi dell'indirizzo meccanica quindi anche lì altre competenze sono state messe in gioco quindi ognuno a secondo le specificità dell'indirizzo, i propri talenti, la propria passione, la propria voglia di fare ognuno ha messo qualcosa ho cominciato a vedere all'interno della scuola per capire chi è, chi è, chi aveva cantato e così via nessuno ha cantato, quindi il massimo che mi hanno detto ho cantato sotto la doccia che quindi praticamente niente però si sono messi in gioco, si sono messi in gioco più di, sono circa 25 ragazzi più di 25 ragazzi, si sono messi in gioco e sono venuti per mesi, tutte le settimane a fare una prova per questo coro e questa cosa poi ha preso sempre più forma abbiamo anche inglobato un'orchestra formata da professori e anche da ragazzi che suonano e suonano decisamente molto bene non solo cantanti e musicisti ma anche ballerini, scenografi e maestranze a scuola faccio il corso di operatore alla riparazione dei veicoli a motore mi piace meccanica, studio meccanica sono l'unica ragazza in una classe di tutti i maschi mi piace molto quello che studio, mi piace l'ambiente sto molto bene con i miei compagni però allo stesso tempo sono una ballerina di danza caraibiche ballo in coppia, ballo alla Stella Show Dance ho un partner, faccio le gare, sono un agonista abbiamo vinto i titoli di campionati regionali, campionati italiani, Coppa Italia oggi andrò a ballare sulle note di Sound of Silence cantata dal coro della mia scuola mi è stato proposto questa cosa e ho accettato siamo più di 200 e quindi questo progetto trasversale che prende tutti gli indirizzi così è decisamente un qualcosa di bello per la scuola perché tutti i ragazzi hanno partecipato quando li metti ai ragazzi li metti in gioco li metti davanti a qualche problema qualche responsabilità i ragazzi rispondono sempre quindi è bello grazie a tutti